Allora, inutile e complicato, ce l'hai di vizio come tutti gli altri tuoi colleghi. Ieri sera io ero presente alla discussione che c'era tra te e Biomax. Hai cancellato tutte le 40 risposte e la cosa bella è che tu neghi. Dici che qui la Torre 7 ha preso fuoco senza essere stata colpita. Qua l'unica cosa che sta prendendo fuoco, caro inutile articolato, è il tuo culo. Mi domando perché vai a cancellare i commenti degli altri quando non sai rispondere. Stessa cosa degli altri tuoi colleghi. Leggi un po'. Io ieri sera ero presente con la discussione, ho letto tutto. E il thread, come dice Biomax, l'hai cancellato, c'erano 40 risposte. E in più neghi anche. E questa è la cosa assurda. Cioè neghi. Ma mi pare che anche settimana scorsa con qualcun altro, non facciamo nomi, vero? Inutile esperimento sociale riuscito male. Quando non sapete rispondere, cancellate e bannate. Chiaro, i brucioli di culo bruciano, eh? Caro, chiaro e inutile. Beh, continua così, si vede che sei intelligente. Bravo, bravo. Per i brucioli di culo fai qualcosa però. Ciao.